ciao a tutti e a tutte e benvenuti e benvenuti nel mio canale allora oggi video all acqua e sapone come lo scontrino adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo preso allora abbiamo preso due panni microfibra della biletta sono 38 per 36 centimetri e sono adatti a tutte le superfici e strabiliatezza con odor stop 1 1 2 pagati 1 euro e 50 poi abbiamo preso queste sfogne abrasive sono doppie da parte gialla da una parte abrasivo sono tre pezzi e queste venivano 80 centesimi poi abbiamo preso limonello piatti sensativo per i piatti da un litro 250 con piacca naturale della pelle 100 per cento italiano profumo di limone limonello piatti 55 centesimi poi abbiamo preso due confezioni di proteggi slip nell'intervallo della licea il lines intervallo proteggi slip ripiegati 24 4 in omaggio abbiamo presi due hanno cambiato la confezione questi qui venivano 1 euro e 50 poi poi mia sorella si è presa questa acqua micellare della garnier acqua micellare tutto in uno per peli sensibili strucca detergere liscia e senza sciacquo viso occhi e labbra maxi formato da 400 ml con 6 mesi di scadenza dall'apertura questo qui con il tappo rosino dove 2 e 75 poi abbiamo preso 3 pavoloso per i piatti per i pavimenti bene ve ne faccio vedere uno perché tanto gli altri due sono uguali questi qui da un litro abbiamo presi 3 esplosizione di profumo 24 ore freschetta floreale fabuloso pulisce profuma tutta la casa questo qui per cucina bagno e pavimenti tutte le superfici lavabili ok questo qui veniva un euro e ne abbiamo presi tre poi andiamo presi la carta igienica della scottet la carta igienica della scottet 4 massi rotoli 1 euro e 19 euro aspettiamo che sa ne finisce le bagnate Ok, siccome andiamo avanti, poi questo, questa gente ultima, per la passione a questo che pagente l'intimativo piatto per i tessili intima più dermatologica in spessata senza parabeni con un antidoterico a base di SIMOR 500 ml 2,65 un bel bottiglione che è poi Poi abbiamo preso questo, il trattatore universale della Fablusio, 600 ml, 3 schietti di lavanda, 1 euro, 1 euro. Poi abbiamo preso questo antietà, tutto tonico antietà, della Olaz, che è total effect, 6 in 1, con vitamine B3 e provitamina B5, con 7 in 15 in 1 per una pene dall'aspetto più giovane e sano, 200 ml, con 12 mesi di spedenti dell'apertura, 3,75 ml. Poi, questo mega boccione di ammorbidente della Bernal, sempre a profumo di lavanda, un litro e mezzo, per 20 lavaggi, 1 euro, poi, questo, sfumo di champagne, capi dedicati, 16 lavaggi, crema effetto setta, delicato profumo, inoletta orientale, questo qui praticamente è un detergente liquido per il bucato a mano o in lavatrice, un litro, questo veniva 1 euro, poi, visoforma, bagno, visoformazione, bagno gel, l'igiene profonda, fiume anticalcare, pulita sicura, detergente igienizzante, da 750 ml, magari è basso, quindi, 1 euro e 60. Poi, abbiamo preso il detersivo per la vanca, i dischetti di cotone della Cotonineve, ce ne sono dentro 80, sono orlati, e questi venivano 1 euro, ma mi sto riempiendo di roba, io so, poi, abbiamo preso i bicchieri di plastica, della più e più, infrangibili, ce ne sono dentro 100, e sono circa 200 cc, questi venivano 1 euro e 30. Ok, poi dopo, molto bella, si hanno omaggiato questo braccialetto della Olat, in realtà, se ne prendevano due, vi dava il braccialetto, però, ne abbiamo preso un prodotto, ce l'hanno dato lo stesso, e il braccialetto in questione è questo qui, con le perle, con la chiusura, a moschettone, se è anche rotto, semmai dopo lo aggiustiamo, questo qui, poi, ci hanno omaggiato di queste, questi panni, che ce ne sono 4, per l'igiene del corpo, con visabololo e allantoina, effetto orinitivo, azione igienizzante, triplo stato più spesso, idrato in profondità, tessuto di, questi qui, questi qui, che sono anche, ci sono anche per l'igiene intima, e il panno shampoo, poi, ci hanno omaggiato, di questo, shampoo rinforzante, della Luxury Argan, della Vital Care, rinforza la fibra capillare, capelli setosi, di dantezza immediata, capelli secchi, danneggianti, da 100 ml, con 12 mesi di scadenza, dall'apertura, Poi, ci hanno omaggiato, di questo, balsamo, dopo barba, della Noxema, limitivo adratante, effetto anti-luve, con acido ialuronico, e vitamina E, non alcol, dermatologicamente testato, 30 ml, con 12 mesi di scadenza, dall'apertura, questo qui, ed infine, ci hanno omaggiato, di queste, bellissimissime candeline, ce ne sono due, sempre con te, della Livia, e ve ne ho una, così ve la faccio vedere, più mezzettane, non sono profumate, non sono candeline profumate, però sono tanto carini, guardate come si è un bellini, con tutto il nuvoletto, in forma di curicini, è un blu, no, un viola, boh, queste, mettiamo questo qua, e niente, questi erano tutto, lo shopping, all, dell'acqua sapone, spero che il video, vi sia piaciuto, se il video, vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto, sulle chat, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!